Ciao a tutti e bentornati con una volta su Indie Gameplay Ita, oggi siamo su Lost Ark, nuovamente su Lost Ark, dopo il video che avevo fatto questo autunno di presentazione, dove non avevamo visto moltissimo se non il prologo, ed era un gioco che a molti di voi non aveva convinto, tra cui io sia un caster, io poi ovviamente non voglio far cambiare idea nessuno, non voglio neanche seguire l'andazzo dei video che si vedono adesso sul canale viola, il canale rosso, insomma, dove la gente snocciola le proprie conoscenze, la propria bravura, il proprio progredire, ma voglio parlarvi di quello che può essere, che dovrebbe essere questo gioco, e umilmente vi dico che del gioco non so ancora moltissimo, ma guardando in giro, informandomi e giocandolo io stesso, ho finito adesso un'ora di coda per entrare, ve ne voglio parlare perché voglio chiarire alcune cose. Allora, prima di tutto è un gioco stile Diablo like, perdonatemi, non c'è possibilità di muovere visuali, c'è la possibilità di ingrandire e allontanare, ci si muove con WSD, con il tasto spazio si fa la nostra mossa speciale e poi è tutta una serie di skill che vanno Q, W, E, R, la A, la S, la D e la F e la Z e la X che si attivano, in questo caso della maga, riempiendo la barra qua sotto. Il gioco è free to play e sta vendendo vendendo, sta ricevendo moltissimo, moltissima utenza che hanno causato queste code. La prima domanda che vi di, a cui rispondo, che so già che state per fare è, ma è un pay to win? C'è uno store che in teoria non funziona, infatti perché è in manutenzione, e in realtà vi dico che non lo so se è un pay to win, tuttavia posso dirvi, come dicono tanti streamer, che potrebbe essere un pay to speed, perché ovviamente io lo sto giocando da solo, lo potete giocare in gilda con altri, pay to win per cosa? Diciamo che nel corso dell'avventura avrete modo di affrontare tantissime cose, tra cui collezionabili, regione per regione, e avrete modo di avere una che non ho ancora, una stronghold, una fortezza che potrete potenziare, costruire, personalizzare, e grazie alla quale potrete fare farming, insomma fare crafting, e tutto questo è legato al tempo, e quindi se volete velocizzare potete farlo pagando o accumulando in gioco i cristalli necessari, che sono questi. Quindi potete pagare per velocizzare, ma è lo stesso discorso che si vede anche su EVE Online, nel senso che se voi, io stasera volessi guidare una capital, ovviamente il mio personaggio su EVE Online non lo potrebbe fare. Ma se vado, mi faccio l'Omega, che è l'abbonamento premium, e mi compro Totplex, io stasera guido una capital, arrivo stasera, posso guidare una capital, ah no, non ho i soldi per comprarmi una capital. Bom, mi compro altri Plex, avrò speso ora di stasera 1000, 1500 euro, ma io vado e guido la capital, che perdo in due secondi netti probabilmente. E così anche qui, nel senso che la cosa molto bella che io ho visto, che le mappe sono veramente tantissime, nel senso che se pensate questi territori, ogni territorio è una mappa. Guardate quante mappe ci sono, è un free to play, ma di contenuto ne ha e ne avrà. Io non sto cercando, permetto di convincere nessuno, è solo un mio ragionamento. Le mappe sono veramente tantissime, sparse per vari livelli, insomma, di cose ce ne sono veramente tante. In questo caso, questa è no, perché qua vedete che posso muovermi nelle varie città, posso tornare a vedere dove ero, e vedete noi siamo a Prideholm, e possiamo andare, questa è la città principale, usciamo e andiamo, questa è l'intera mappa con tutti i continenti, e all'interno di uno stesso continente potete viaggiare con il teletrasporto, vedete che cliccando si apre il, e noi siamo qua adesso. Ovviamente quello che abbiamo visto era Prideholm prima, questa è la prima regione, quindi il primo clic all'interno del, vedete, andando qui, si esce e si va a Log Hill, quindi siamo a Log Hill. Qua ci saranno gli Akumo Mountain, qua c'è una caverna, e i contenuti sono veramente tanti. Come vi dicevo, in ogni regione potete trovare dei collezionabili, quali mostri da uccidere, viste da sbloccare, collezionabili che trovate farmando i mostri, e anche degli oggetti da trovare e raccogliere. E facendo un claim, insomma, completando queste raccolte, ottenete dei premi, che possono essere appunto esperienza, denaro, cose varie, ci sono cose da fare, e questo lo potete fare per ogni regione del mondo, quindi di contenuto ce n'è a morire. La cosa bella del gioco, che mi ispira e probabilmente ispira a tanti di voi, è che io sono sempre stato attratto da giochi come Diablo, ma alla fine il looting era un po' a fine se stesso, le mappe erano dei corridoi, non c'era un vero e proprio open world, e tante volte in giochi diversi, come magari un Final Fantasy o un World of Warcraft, lo trovo un po' noioso il fatto ogni volta di dover affrontare qualcuno. La natura, un po' Diablo-like, un po' Akenslash, fino a un certo punto Akenslash, vi permette di trovare dei mostri e mettervi a uccidervi, dandovi anche una discreta soddisfazione, perché quando poi riuscite a fare queste cose, ovviamente il fatto che sia free to play vi consente di potervi potenziare esponenzialmente a livello di equip, a livello di tutto, io adesso vado, mi attiro tutti quelli che posso, me li porto dietro e poi magari vado a fare la mia mossa speciale, l'inferno, vado a lanciare questa e faccio veramente una strage di mob. E intanto luto, ottengo oggetti. E questa è una cosa che mi piace molto, il fatto che comunque questa meccanica un po' alla Diablo vada a coincidere anche con un'infinità di quest, un'infinità di dungeon, di ride, con l'eventuale ride finder, con le varie quest. Adesso la quest non la sto trovando difficilissima da comprendere per quanto la lingua inglese abbia magari ogni tanto qualche termine arcaico. Vedete intanto che sono arrivato qui alle rovine e qui è tutto molto chiaro come in tutti gli MMO. Io so che la missione, vedete adesso ne ho alcune, ma soprattutto devo andare, mi dice questa è all'interno di quella regione, questo anche qui mi mandano tutte in questa regione qui, mi dice vai nella Colch Forest e ora ci devo andare. Tra l'altro la Colch Forest dovrebbe essere questa tecnicamente, Luca, e la osservo, si può interagire con gli oggetti. E ovviamente poi ci sono tutte le varie cutscene, i vari boss, i vari colpi di scena. Di che cosa si tratta? Si tratta di recuperare l'arc, l'arc credo sia un componente magico in grado di dare un vantaggio nella lotta contro i demoni che sono arrivati a distruggere il mondo. Però c'è gran soddisfazione, adesso poi mi muovo in modo molto tattico e calcolando anche la quantità di... mi devo curare. Questa è tosta davvero. Adesso vado a lanciare questo. Ok, che vado a liberare un po'. Questo è probabilmente uno dei primi scontri che sto trovando veramente difficili. Adesso eliminiamo tutti i tizi qui del presidente e poi uccidiamo il boss, forse. Ok, posso bere un'altra pozza. Sì, direi che ce la faccio agilmente. Dicevo, il gioco vi incentiva anche a crearvi personaggi aggiuntivi. Questo è un personaggio che conosco, lo conoscete nel corso del... è un che abbiamo trovato una tavola dell'arc, insomma, che è danneggiato. Dobbiamo trovare dove è stato rotto un pezzo che manca. E... il fatto che ci siano... adesso vi faccio vedere. Ci sono due livellaggi. C'è il livellaggio del personaggio che arriva fino al 50 e poi dal 50 poi prosegue però il soft cap dove si aprono tutte le features del gioco e al 50 e il roster invece che è un livellaggio dell'account che dà un vantaggio a tutti i personaggi. E la cosa è che appunto il gioco incentiva a fare altri personaggi e giocare anche con altri personaggi perché i personaggi credo condividano comunque anche lo stronghold e tutto. Quindi è molto molto interessante per quanto, come mi ha già detto qualcuno, non è nulla di innovativo ma per me onestamente sembra quasi un sogno il fatto di ritrovarmi un MMO con più o meno tutte le sue meccaniche. Ma che cos'è che lo rende quello che definiscono un MMO coreano? Premetto, io non ho una grande esperienza nel gioco ma quello che posso dirvi è che se un giocoisce free to play e vi piace potreste essere incentivati a pagare per avere dei vantaggi come meno tasse nelle vendite e quelle cose lì. E io questo discorso lo condivido perché se un gioco mi piace mi faccio il premium che qua si può fare anche comprandolo in gioco con quei soldi di gioco. Ma la cosa che dovete sapere è che essendo coreano il combattimento è stimolante come pochi altri perché comunque si combatte la Diablo. Quindi se adorate quei giochi lì non vi pesa neanche combattere, non è la classica che vi mettete davanti al nemico, tab, targettate, rotation e poi di quelli che quello lo trovo per quanto Final Fantasy sia bellissimo ma la trovo un po' antiquata. Ma il fatto che è coreano è una cosa che vi deve mettere in testa il fatto che ci sono tante cose da fare e sono tutte molto lunghe. volete far livellare e arrivare al cap? Va bene lo fate ma i vari collezionabili, i vari item, le varie cose che vi permettono di ottenere delle cose richiedono costanza che so il classico calendario delle cose che potete sbloccare giorno per giorno, le varie missioni di una sorta di, c'è anche una sorta di reputazione dove potete aumentare la reputazione che quel personaggio ha di voi come la Amity su Black Desert di cose da fare ce ne sono veramente tante e sono tutte lunghe. Poi nulla vi vieta di prendere il gioco così come viene con i vostri tempi perché ovviamente a differenza di New World questo nasce come PvE mentre New World deluse me per primo perché comunque e tanti altri perché ci si aspettava un gioco comunque con un minimo anche di PvE e la cosa che mi lasciava in dubbio è ma una volta che il PvE finisce nel senso che ho fatto livello massimo e tutto in base a diciamo le lotte tra fazioni, ma alla fine chissà che il casino ne viene fuori e in effetti è stato così ma il fatto come Black Desert che vi mette di fronte un gioco dove andate con i vostri tempi ovvio non potete craftare le cose più avanzate, non potete fare le cose, ma con i vostri tempi andate avanti e le fate adesso cosa sto facendo? Sto parlando e intanto mi rilasso uccidendo questi mostri ovviamente poi la difficoltà aumenterà perché andremo in zone molto più complicate e il livellaggio così è molto basso dovete per forza andare a fare le missioni le missioni sono comunque semplici i nemici rispondono rapidissimamente io adesso ingrandisco perché voglio andare a vedere che cosa ho preso ho preso Shoot ah ok ho cambiato la spallina cioè praticamente avevo queste, adesso mi metto questa che è più bella che è solo da un lato perfetto, tra gli altri oggetti non ho nulla a parte questo che sono dei forzieri classici vi ritroverete come in tutti i giochi coreani ad avere 25.000 forzieri che vi danno oggetti come la Black Desert che è abbastanza fuorviante come cosa, è spiazzante più che fuorviante perché non sapete cosa serve cosa, quindi insomma ci saranno tante cose da fare e poi sulla mappa col punto di domanda, poi col tab apparite la mappa un po' la Diablo punto di domanda consegnatele quest secondarie dove vedete che c'è il dialogo mi danno esperienza di combattimento, esperienza di roster quindi l'esperienza dell'account e finisce qui quando avrò finito l'esperienza dell'account mi verrà data la possibilità appunto di sbloccare un perk che darà ad esempio a tutti i personaggi più due di intelligenza e così via delle personalizzazioni inoltre ci sono, vi faccio vedere rapidamente vabbè queste che vanno a potenziarsi che sono importanti perché l'engraving poi vi permetterà di fare ottenere dei punti in questi due slot qui le gemme che si andranno poi a equipaggiare le carte che sono una cosa molto intrigante secondo me perché adesso non ce le ho ancora devo sbloccare anche le trade skill un'altra cosa in cui parlo liberamente è il discorso delle trade skill un po' come Archeage avete dei punti energy punti energia che potete usare e che si ricaricano mi pare 30 ogni 10 minuti quindi anche lì volete fare tutto il giorno il minatore giocate con moderazione oppure dovete prendervi o in gioco o a soldi o con le gemme insomma quello che volete l'energia per poterlo fare quindi è un gioco che deve essere preso molto con calma mentre invece un'altra meccanica interessante adesso non mi ricordo dov'è è no collectible stone ok no queste sono tutte le cose collezionabili cazzarola mi ricordo dove sono praticamente ci sono delle carte che potete farvi una sorta di di mazzo e praticamente avete modo poi di avere dei potenziamenti rapidi al personaggio adesso io non riesco a farvi vedere in sintesi qua avete lo stronghold con tutte le varie cose che potete sbloccare avete il foraging il logging il mining l'hunting il fishing l'excavating e gli altri materiali avete i materiali per sailing perché potete anche navigare e rapport sono quelle che aumentano credo l'amicizia insomma potete fare anche delle romance con gli npc e come vi dicevo le carte adesso io purtroppo non riesco a vederle da qui praticamente ci saranno anzi non mi ricordo in realtà neanche dove si va a vedere questa cosa delle carte però la cosa interessante è che quando avrete un po' di carte potrete andare a utilizzarle c'è un un premium anche qui che potete comprarvi anche in gioco oppure potete acquistare il pacchetto bronzo che è quello che vi da 30 giorni praticamente avete meno tasse insomma dei vantaggi in gioco e se il gioco vi prende e ci giocate tutti i giorni perché no cioè adesso ovviamente bisognerà fare attenzione al fatto che magari ci sono le code non si può non si può entrare tanto facilmente soprattutto durante il pomeriggio e soprattutto la sera però è una cosa che comunque vi può potrebbe farvi comodo insomma spendereste volentieri così come pagate magari i soldi di un di un abbonamento di un altro gioco avete le cavalcature ci sono anche i pet io ce li avrei ma hanno chiuso al momento la possibilità di reclamare no ce l'ho anzi no perché è questo infatti è chiuso e praticamente questo è il login event ogni giorno che entrate guadagnate qualcosa tipico dei coreani mentre invece qui mi danno i bonus del preordine che ho fatto ma al momento è chiuso perché è in manutenzione avete le combat skill e vi spiego le ultime cose insomma potete andando avanti livellando dare dei punti i punti vi servono per sbloccare nuove skill tipo al 14 adesso sono il 12 sbloccherò casting e poi gli stessi punti potete spenderli per aumentare ad esempio io ho aumentato questa della bruciatura flame skill a 4 punti ho sbloccato una di queste quindi l'ho portata a 4 ho sbloccato questo ho speso un punto per potenziare ignite poi se spendo altri 4 punti su questa sblocco anche no forse 20 devo spenderne altro che 4 devo spenderne 20 sblocco uno di questi e così via stessa cosa inferno potete fare varie cose vari preset dove potete spendere i punti in vari preset così come ad esempio io adesso 5 punti vado spendo vedete 4 punti in totale posso sbloccare anche uno di questi ignite danno dei bonus diversi potete andare a combinare insieme le varie cose e crearvi dei preset diversi in modo da usarli all'occorrenza io adesso sto facendo non so se sbaglio o meno lo scoprirò sulla mia pelle sto facendo un mago full fire quindi farò tanto danno la fuoco però se incontro un nemico che non è sensibile al fuoco anzi è molto protetto mi servirà un qualcosa che userà un altro tipo di elemento e questa è una cosa molto interessante che prenderò ovviamente con calma molta calma l'adventure storm è quello che vi ho fatto vedere prima dove potete andare a vedere tutte le cose che avete sbloccato all'interno di quel territorio e le sheet music sono delle delle musiche che vi servono di prima di tutto per viaggiare all'inizio e poi fare charm su alcune cose cioè difficile ce ne sono tante ed è difficile anche per vedere quali siano tutte abbiamo l'universal storage di cose veramente ce ne sono un'infinità card catalog eccolo qua qui vedete che potete collezionare varie cose e se avete più carte di uno stesso mazzo di una stessa raccolta vi dà dei vantaggi vedete che in questo caso qui possiamo avere averne due mi dà tutta una riduzione di 5% a tutti i danni elementali se ne ho poi altre due me ne dà più 2% di elemental damage e così via stessa cosa qui c'è più le avete poi potete combinarne farne due di un tipo così avete il buff di questo due di questo però le carte ovviamente dovete trovarle in gioco pensate che addirittura i collezionabili questi questi qui soprattutto le ho ottenuti abbattendo mostri di pietra ed è un oggetto che non ho ancora chiarito come funziona la meccanica ma è possibile anche vendere quindi non metterli qui però voglio provare a vedere una volta fatti 25 che cosa posso fare e un'altra cosa è appunto quella di dire avete sempre da fare ma avete voglia di fare nel senso che adesso io voglio entrare voglio andare a farmarmi un po' di cose è ovvio ripetitivo però la cosa che a me è mancata sempre su un gioco come un diablo un game dawn è il fatto che ok è figo la progressione però non avete sta grande interazione con un'altra gente ovvio non ho niente di cui vantarmi con gli altri girando su un cavallo però anche solo il fatto di girare vedere l'asta vedere cosa fanno gli altri magari dare una mano partecipare a un boss perché in chat fanno degli annunci ogni tanto ci sono già i gold seller fantastico praticamente potete in alto a destra se vedete c'è scritto CH3 in alcuni punti del mondo vengono sponati dei boss che sono disponibili solo in alcuni channel del mondo quindi voi andate lì in chat dicono guardate che sul channel 8 c'è quel mostro lì voi andate lì e date una mano al mondo a ucciderlo succede anche succedeva anche su black desert quindi nulla di nuovo però lo trovo molto ma molto meno confusionario di un black desert e più soddisfacente nel combat poi adesso vi faccio vedere c'è la skill quella che sta qui del fuoco c'è questa poi ho la E che fa danno elettrico questa così c'è la A vento credo la S acqua la D che è si chiama inferno che ho messo due volte tra l'altro quindi vorrei anche toglierla ma non so come fare ragazzi questo era Lost Ark ovviamente si vedono in tanti giocare e li vedete giocare per delle ore non capendo magari cosa fanno magari lo spiegano non lo so però non è un classico gioco da live è figo il fatto che se avete degli amici andate a fare i dungeon insieme ovvio vi chiederà una quantità di tempo ma con i vostri tempi con i vostri ritmi quindi valutatelo ovviamente magari quando finiranno un po' le code quando si staranno un po' più tranquilli anche se essendo free to play io credo che la gente non farà altro che aumentare quindi spero aumentino la capacità del server ovviamente qui non credo sia necessario come su New World avere dei posti limitati per evitare di sbilanciare le guerre perché pvp c'è ma su arena mi pare quindi ecco non vedo l'ora di andare avanti provarlo un pochino però intanto fatemi sapere che cosa ne pensate se lo avete provato se questo video vi ha incuriosito vi ha convinto in un certo senso a provarlo io ho provato solo la classe del sorcerer ce ne sono 15 di classe in totale sono genderlock quindi uomo o donna solo alcune classi a parte il fuciliere per il fuciliere uomo dà diritto a due classi diverse da uomo e due diverse da donna quindi è genderlock fatemi sapere alla prossima ragazzi e ciao ciao